Una decina di petardi artigianali privi dell'etapo ermetico contro la perdita di polvere da sparo e per questo altamente pericolosi sono stati sequestrati dai militari del nucleo di polizia economico o finanziaria della Guardia di Finanza di Pescara in una bancarella a Montesilvano dove il materiale veniva venduto illegalmente da un cittadino italiano con precedenti per droga, furto e scommesse illecite e in passato anche per settore di reddito di cittadinanza. Indagini sono in corso per risalire ai fornitori della merce mentre l'uomo è stato deferito all'autorità giudiziaria per il reato di fabbricazione commercio abusivo di materiale esplodente.